Sì, è vero. A seconda torna di raffinatura con il 1.0 par di raffinatura i pietrini di Sassoni. Beh, ero un giorno anche in un po' di raffinatura. Il di Vannini è successo. L'affinatura con il Fattoria in paresa ha un'attività del virus che è un'attività che ti passa sulla città del problema Prima di Andrea. Sì, ragazzi, non vorrei vedere che il file è invenuta in un po' di raffinatura a un po' di raffinatura. Sì, c'è in un po' di raffinatura in un po' di raffinatura per i raffinatura. Grazie.